In Vircadia ho realizzato un Teleport utilizzando uno script. Andiamo a vedere adesso lo script in Concreate. Questo è il Teleport. Vedete che ho inserito il link allo script e negli user data ho messo l'indirizzo a cui voglio che il Teleport mi porti. Chiudo le due finestre e vediamo se funziona. Clicco sul Teleport e sono stata riportata alla posizione dove volevo essere e arrivare. Questa posizione la trovo qui in Navigate, Copy, Address to Clipboard. Ed è quella che avevo inserito nel Teleport che adesso vi faccio di nuovo vedere. Create, vado in Teleport. Qui, questa in User Data avevo quindi incollato la posizione che vi ho fatto vedere e che ho copiato. Ciao!